12 bustine di 151 Oggi abbiamo un fantastico ospite che aprirà le 12 bustine Ciao a tutti Presentati, chi sei? Sono Sofia Sono qua per spostare e sperare di trovare il God Park Mi aspettavo un sono una bustina come l'ultimo Sono una bustina Che è che ha detto sono una bustina? Un bambino Ciao, tu sei una bustina Ah, ok Talmente malato di bustine che ha detto sono una bustina Allora, andiamo con la prima bustina di 151 151 ovviamente a cassa del Godo Pecco Godo Pecco che lo vogliono tutti, no? Tutti lo vogliono e quasi introvato Sì, ma basta anche venire Dovete bloccare il video e poi guardare il codicino Perché mi va Vai, l'energia è psico Ah, non abbiamo fatto il gioco Andiamo spido Oh, qualcosa brilla Brilla tutto Allora, vediamo un po' Siamo in zona reverse con uno spi Ah, il Godo Butterverse E un ditto L'ennesimo Che fino a poco fa mi mancava ragazzi Quindi abbiamo un altro da aggiungere alla collezione Ma io ti vorrei fare una domanda Il tuo Pokémon preferito qual è? Ditto Allora Allora, il mio preferito è Umbra Ma quello che sono perfezionato è Arcanine Arcanine, come mai? Perché ho una fissa per le tigri da sempre Ed era il Pokémon che si migliava di più a una tigre Nella prima generazione Quindi Prima generazione Sì, sì, sì Vabbè, ovvio Parliamo solo di prima generazione Siamo in tema 151 Parliamo solo di prima generazione È d'obbligo Sì, Umbreon è arrivato dopo Bene, bene Ci sta comunque Umbreon, bellissimo Pokémon Seconda gen Oh, la S-A-R Eccola qui Non sono tutti vuoti Facciamola vedere bene un attimo in camerina E però Questa non è una brutta come carta Bella, bella, bella questa No, ancora non ce l'ho La scambierà perché ne trova un'altra qua dentro Quindi non ti preoccupare E se trovi un'altra Zapdos magari Allora Andiamo col terzo pacchetto già sbustato Abbiamo già preso una S-A-R Oh, i due bustine raga I due bustine Io l'ho detto che sti roba Io ti amati Sti roba, sti pacchetti Ooooo Ecco, mi mancava Adesso ce l'ho C'è? 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 Non c'è Sì, sì Ce l'hai, ce l'hai Ce ne hai uno? Sì, sì Va bene, va bene Ci sta comunque Questo è considerato come pool Dalla Pokémon Company Quindi Io non mi affano Dalla Pokémon Company Io queste cose mi fanno un pochino arrabbiare Sì Cioè Olografiche Energie Cioè Come pool Direi che proprio No, compri un boxettino da tre Trovi solo l'energia Esatto Olografica E un pool Diciamo che non è proprio Non è giusto Considerando quello che costa i prodotti No, non è giusto perché Spendere 20 euro per trovare un'energia Da un euro Mi fa veramente alterare Un euro forse è esagerato Perché Beh adesso viaggono Con qualcuno le vende ancora un euro e 52 euro Vero, vero, sì Ok Anche perché tendenzialmente non sono così facili da trovare Però io non so Diciamo che non le comprerei Neanche 50 centesimi Queste sono quelle carte che sul gruppo Telegram Ovviamente Potete scambiare Dove abbiamo conosciuto anche Sofia Che ci sta prestando Sì, è venuta qui a spostare apposta Perché ci ha conosciuto sul gruppo Telegram Esattamente E niente Guarda un po' la fortuna dei Toroi Lì scambiamo moltissimo E ci aiutiamo sul 151 Però per ora Fortuna dei Toroi Ha funzionato Vengo a spacchettare anche la prossima Guarda, volentieri Noi siamo sempre qui Sempre qui Non ci muoviamo E avremo ancora tantissima roba Da sbustare Il 151 Perché stiamo aspettando L'UPC E le mini tin Le mini tin Le mini tin 40 mini tin abbiamo Tanta roba Sì, 40 Eh, te ne hai presa 20 Sì, ma ne apro 10 10 me ne tengo sì Non mi sa che qualcosa c'è Perché l'ho visto un po' Attenzione Di spriccio Sì, ma magari ho visto malissimo Attenzione Attenzione perché Vediamo un po' Sono già due pool Considerando la The Pokemon Company Poi, intanto poi dopo Facciamo uno Dobbiamo controllare È che su sei bustine di 151 Due pool non sarebbe male In realtà tre Perché la Cosmo Lo dicevamo che Eh, aspetta, forse sono i Ex Ecco Quello mi manca Anche a me mi manca Allora non posso scambiare niente Alla Kazama Bello, bello, bello Ci sta Va bene Comunque Questo è un Un box da tre pool Da tre pool Quindi Aspetta, abbiamo L'ultima bustina Quindi Quindi potremmo trovare Un altro pool Sofia, cosa dici? Un'altra S.A.R.? Magari Vabbè, ma ci accontentiamo Anche di una R nel caso Ma anche di un God Ma sì, ma anche di un God Ma siamo Siamo leggeri Siamo umili Questi bozzettini da sei Regalano solo Ma comunque Un God Adesso Con tre pool Eccolo Un altro Eccolo Questo è un altro pool Questo è un altro pool Siamo a quattro Vabbè, scritto il me mancava Ma se troviamo il God Pack Raga Qui tanta 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 roba Un gran box da sei Anche perché mi piacerebbe Vedere lo sto God Pack Ma anche a me Ti dico la verità Anche a me E ho visto che qualcuno L'ha beccato anche sbagliato Non c'è il God Pack Non c'è Ma c'è Che ti mancava Che ti mancava Ma anche il penne Certamente mi ha regalato Ah, non la mia Passiamo al secondo box Da sei bustine Ma Sofia Questi box da sei bustine Dove li hai presi? Su Fantasia Store Ovviamente Per comprare i vostri prodotti Sile Andate su Fantasia Store E col codice sconto Torai5 Avete il 5% di sconto Al checkout Non vale per Le cose in promozione Non vale per i prodotti da sconto E andiamo avanti Con questo fantastico Spacchettamento Secondo box Da sei bustine Oh, primo box Quattro pullate Considerando le energie Quindi not bad Per niente Direi che una pullata È andata proprio bene Bene Il box se l'hai ripagato Sì, sì Se l'hai ripagato In realtà c'ha quasi guadagnato Una decina d'euro Esatto Quindi Dai 40-45 euro Quindi Non male Non male Non male Non ti sto abbracciando Se mettono il braccio qui Soltanto per Non me ne ho anche accorto Lo dico per Dani Non ti sto abbracciando Il nido Queen Un Big Tribal Palloncino Niente Di queste comuni Mi sa che sono tutte Home Knight Però una R normale Insieme a una SAR Non sarebbe male Trovarla Una Una R Una R Oh Ancora non abbiamo trovato Una R Cioè Le R sono Sono difficilissime Da trovare È assurdo Io le ho trovate Alla prima Ettb che ho spacchettato Però non ho proprio niente Vero Ma anche perché Nel Ettb Sì Il pull è standard Effettivamente Sì Almeno tre pullate Le ho fatti Le fai però Considerando che ci sono Anche le energie Loro considerano quindi Molte più pullate Rispetto alle tre pullate Considerano cinque pullate Perché tendenzialmente Trovi due energie Di norma Di norma Se non sono due Sono tre energie Più due carte Diciamo Esatto Però il punto è che Le pullate sono talmente Random Perché puoi trovare O due EX O tre EX Sì Nient'altro Oppure trovi soltanto SAR Perché abbiamo visto Gente che è assurda Infatti è una cosa Trova solo SAR Vediamo un po' Il Diedlet Quando arrivano le reverse Mi emoziono E il Machor Ma va bene Va bene Un po' di colansia Tipo Da prestazione E andiamo avanti Con questo Boxettino Una 6 Di 151 Pokémon SCARLATTE VIOLETTA Ragazzi 151 Ci può quello dire È il set migliore Di SCARLATTE VIOLETTA L'unico Per ora sì Vero Ma Secondo me Batte anche alcuni Di SPALE SCUDO Confermi Sofia Ribatti la situazione Ce ne sono alcuni Di SPALE SCUDO Che Sono imbattibili No no Allora A me Zenith Regale Probabilmente è il miglior set Di SPALE SCUDO È più difficile Insieme a VOLUZIONE TERE Sì Vabbè Sono i migliori set Origine perduta Tempesta argentata Sono set meglio Ti dirò che A parte il Lugia Non è che ci sia tanto Quindi Infatti Beh Non sono bellissimi Raga Sì Quello è vero L'ETB Di Come si chiama Di Tempesta argentata Faceva pena Era orribile Perché mi metti un Vulpix Lì Quando hai un Lugia Oh Questo mi manca Sì Benissimo Grazie La sua mia Perfetto Ottimo Ho emozionato Fenix Per aver trovato un olografico A me manca ancora A lei Non so quanto è emozionata Flario Mi sa che ce lo do più Dopo te lo do Non so Cioè mi sa Nel senso Te lo do se ce lo doppio Le evolution Andranno sempre bene Perché ci aiutiamo Anche a fare i master set O i regular set Perché io Mi sa che il master Hai dato il gruppo Telegram Gruppo Telegram Toroig E basta Però Toroig 5 Per fantasia Va bene Andiamo avanti Così Ancora non abbiamo trovato niente Qui Quindi stiamo sperando In qualcosa Negli ultimi pacchetti Ma questa è vuotina Una vuota Dove resta Che sudi Stai lì a fare Comiglia Tutta la linea evolutiva Di Gasly È comiglia Sono belle belle Gengar è stupendo Peccato che non l'abbiamo fatto Non ti piace comiglia Come illustratore Tipo il Garatina B Alternative Art Di origine perduta E sai che se quello Lo trovo Lo rendo subito Brava Vero E Gioldio Oh ci siamo andati vicino Vapore un giorno Prossimo bustino A Flare E ci mancano due bustine Di questo set Di 151 Solo due E ancora non abbiamo trovato niente Per ora male male Per ora male male Ma è demografica Della energia Cardo mi fai un favore Vai a prendere Un tovagliolino Alla soffieglia Asciughiamo il sudore Perché sta sudando Che dice Non sto trovando niente qui I miei soldi I miei soldi Vabbè Le hai ripresi di là Non è male Non è male Almeno quello Diciamo che Han deciso di patteggiare Praticamente S'hanno fatto dividere Un po' la cosa Sì sì Ma pensavo andasse molto Però Raga non è detto Abbiamo ancora le ultime bustine qui Midorina Eee In Gierdo Stavo detto No raga Non lo sentivo L'ultimo pacchetto È quello decisivo In sei bustine Non ci credo Che non c'è neanche una bullata Ma neanche una Cosmolo No è vero Non c'è niente Per ora niente No raga Non è possibile Questo è scam È scam totale Se in sei bustine Non troviamo niente Qui ci hanno fregato Qui ci hanno fregato Sì sì Speriamo di no Buio Allora Nell'ultimo abbiamo visto Che non c'è la full art Stiamo iniziando a sudare Qui ragazzi Attenzione che qui sudiamo Sperando Nella R o nella Sara A questo punto Ma era una Sara di Blastoise Non so Ti piace Ma anche c'è la Rizzarda Cosa fai? Lo butti? No no Però Blastoise è più bello Dai Blastoise è più bello Però per riprenderci bene il prezzo Non c'è qui Io non c'è niente No no raga No dai In sei bustine Ma Pokémon Company Che cosa ci combini? Qui in uno Ha trovato quattro pull In sei bustine Noi ti sponsorizziamo Facciamo di tutto per te Compriamo Spendiamo Facciamo l'impossibile Però compriamo la Fantasy Store Da Pokémon Company Però Fantasy Store compra da Pokémon Company Quindi è un seguirsi di cose Raga Niente Molto triste Molto triste No e non troppo Un pochino triste Diciamo che il Venus Earth ha alzato un po' di livello Se non c'era lui Pensa 70 euro Incasso 50 Questa è la prova Che se volete guadagnare spacchettando No datelo Se volete invece divertirvi Fatelo Perché è divertente Viva la ludopatia Viva Spooks